Il Comune di Battipaglia parteciperà con la collaborazione di un gruppo di associazioni al bando Never Alone, che si pone l'obiettivo di promuovere e favorire l'inclusione sociale di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 21 anni, minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni giunti in Italia come minori non accompagnati, a dare via libera all'accordo con l'Arie Sonlus, capofila del progetto che sarà presentato nell'ambito del bando alla Giunta Municipale, che ha approvato lo schema di convenzione collegato. Grazie